Operazione Metamorfosi è finito agli arresti domiciliari un giovane di Isernia responsabile di minacce e ricatti per estorcere un'ingente somma di denaro. In provincia di Isernia scattano nuove denunce a carico di uno spacciatore campano agli arresti domiciliari e al carico di alcuni titolari di ditte di costruzioni. A disposizione dei vigili urbani di Campobasso la prima auto ibrida a esse munita di uno speciale dispositivo per monitorare le revisioni. Sempre più branchi di lupi si aggirano tra le campagne del Molise e gli attacchi di questi i predatori sono rivolti non solo ai cinghiali ma anche negli allevamenti. Buon pomeriggio oggettili telespettatori. Operazione Metamorfosi della Questura di Isernia. I militari hanno eseguito un'ordinanza di arresto domiciliare a carico di un trentenne probabile responsabile di estorsione e truffa a danno di un concittadino di 66 anni. Vediamo il contributo. Agenti della squadra mobile su ordinanza del GIP del Tribunale di Isernia hanno provveduto a dare esecuzione ad una custodia cautelare agli arresti domiciliari a carico di un isernino di trent'anni per i reati di estorsione e truffa a danno di un suo concittadino di 66 anni. Il provvedimento è stato adottato in seguito ad un'attività di indagine condotta in seguito alla denuncia della vittima che aveva riferito di circostanze apparse subito agli inquirenti meritevoli di appropriati approfondimenti. Tutto sembra essernato da alcuni procedimenti penali a carico del 66enne e dall'offerta di aiuto da parte del più giovane per evitargli ogni tipo di conseguenza giudiziaria in cambio di denaro. Un percorso che si è immediatamente configurato attraverso una vera e propria condotta estorsiva mettendo in atto minacce artifici e raggiri facendosi consegnare dal malcapitato 66enne in quattro mesi circa 40.000 euro. La Polizia di Stato di Sernia fa sapere che il truffatore, già con reati a suo carico contro il patrimonio, ha dimostrato di essere particolarmente abile nel modificare il tono di voce e il linguaggio ogni qualvolta ha contattato la vittima per richiedere somme di denaro utili ad evitare i fantomatici procedimenti penali. Infatti il tizio a volte si è presentato come se stesso ed altre volte come un immaginario avvocato che avrebbe dovuto curare gli interessi del denunciante facendogli recuperare l'ingente cifra già spesa. Continua a spacciare tranquillamente Ashish, tossicodipendenti della provincia di Sernia nonostante fosse agli arresti domiciliari. L'uomo, un campano residente in Alto Molise, è stato scoperto nel corso delle indagini portate avanti dai carabinieri. Per lo spacciatore va a sommarsi adesso anche la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini della vendita illegale. La droga è finita sotto sequestro. In una seconda operazione condotta dai militari del nucleo ispettorato del lavoro, due titolari di imprese edili sono stati segnalati all'autorità giudiziaria di Isernia per l'impiego di operai in nero. L'arma ha inflitto in totale sanzioni per oltre 25 mila euro. A Montenero di Bisaccia sono diverse le situazioni emergenziali in materia di viabilità. Il primo caso riguarda la chiusura della strada di Colle Rampone per la quale sono stati spesi oltre 800 mila euro per servire una zona commerciale che resta senza richieste di insediamento di nuove attività. Il secondo caso è rappresentato dalla strada denominata Sotto la Valle che da oltre due anni risulta interrotta per via di un vasto movimento franoso. La chiusura di questa arteria porta al blocco di collegamenti tra l'entroterra e il litorale adriatico. In ultimo c'è la gravosa situazione che interessa Valle Campanile. Nonostante sia stata ultimata da tempo la viabilità resta ancora inaccessibile. Cambiamo argomento, ci spostiamo nella città capoluogo. È stata presentata dagli assessori comunali di Palazzo San Giorgio, Ramundo e De Bernardo la prima auto ibrida a disposizione del corpo della Polizia Municipale. L'auto è munita dello speciale dispositivo Street Control per monitorare le revisioni e le assicurazioni delle auto. Campobasso, il sogno di una città ecosostenibile, aperta alle innovazioni tecnologiche e ai miglioramenti per la vita degli abitanti e dei visitatori. In questo senso il progetto Ambiente e Sicurezza predisposto dal Comune e la presentazione della prima automobile ibrida in dotazione della Polizia Municipale. Stiamo cercando di dare un impatto forte, c'è un'orma ambientale, si chiama così, forte per poter costruire una città più ecosostenibile, vivibile e che sia un po' all'avanguardia e dove montare man mano vari servizi sempre in questa direzione. Siamo partiti con la sperimentazione per due anni sulla gratuità dei parcheggi blu per auto elettriche di ibride e oggi siamo arrivati alla maturità di poter estendere questa gratuità per i prossimi due anni e mezzo, quindi dare la consapevolezza al cittadino di poter avere un servizio se fa una scelta ecologica importante per i prossimi due anni e mezzo, è una cosa importante. A ciò abbiamo iniziato ad aggiungere altri servizi connessi. Uno su tutti è la possibilità di dotare la città di Campobasso gratuitamente con un accordo con NLX di 40 colonine elettriche su tutto il territorio in modo da poter fornire al cittadino, l'ospite, il turista, la possibilità di caricare il proprio mezzo virtuoso nei punti di interesse maggiore della città. A questo, grazie a una collaborazione stretta con l'assessorato alla mobilità di De Ringrazio Francesco Re Bernardo, abbiamo iniziato anche a estendere questa azione virtuosa anche a noi stessi. Quindi partendo dal corpo dei vigili urbani, oggi abbiamo dotato la città di Campobasso della prima auto ibrida in attesa pian piano di cambiare tutto il patrimonio, il parco auto dei vigili urbani volto in quel senso, proprio per dare una sicurezza ambientale maggiore, un rispetto maggiore e quindi crederci fortemente su questi concetti, questi principi. La vettura è dotata di un sistema di rilevamento dei dati, lo street control, in grado di monitorare le automobili presenti in città, rilevando il rispetto meno di alcune norme, tipo le date delle revisioni, le scadenze assicurative e le stesse attestazioni di proprietà. Abbiamo pensato, come dicevamo, è un sistema di sicurezza e ambiente correlato, quindi abbiamo dotato il corpo dei vigili urbani, si è dotato anche dello street control, che è un sistema che dà sicurezza al cittadino del rispetto delle regole e dà la possibilità appunto di vivere una città più ordinata. È uno strumento che è volto a garantire il rispetto delle regole e di tutto il codice della strada, aiutando il corpo dei vigili urbani in questo annuso lavoro, che è quello di governare una città ampia e stesa come quella di Campobasso. Sono in aumento i branchi di lupi che attaccano sempre più di frequente il bestiame, avvicinandosi pericolosamente anche ai centri abitati. Allevatori e coltivatori chiedono alla politica di procedere con un piano straordinario di controllo della fauna selvatica, garanzia dello svolgimento delle attività nelle campagne e per l'incolumità delle persone, con l'aumento dei cinghiali anche il numero dei predatori è salito, ma i lupi preferiscono attaccare anche prede più facili come pecore, capre, vitelli e animali da cortile. Tutele e salvaguardia del patrimonio naturale attraverso la valorizzazione delle aree attraversate da fiumi e corsi d'acqua. Un programma che punta a sviluppare e orientare pratiche sostenibili nella regione. Domani pomeriggio nella sede dell'Ateneo a Termoli ci sarà la presentazione del comitato promotore per la costituzione del contratto di fiume Basso Biferno Costa Adriatica Sinarca. Riorganizzazione del mondo della scuola. Il sindacato CGL lancia l'appello e si schiera contro la richiesta di ulteriori forme di autonomia. Si torna a parlare di istruzione, nello specifico ad esprimersi sono i sindacati contro la richiesta di ulteriori forme di autonomia. La CGL parla di una riorganizzazione della scuola e del sistema sformativo tramite una vera e propria secessione delle regioni più ricche che porterà a un sistema scolastico con investimenti e qualità legate alla ricchezza del territorio. Si avranno quindi come conseguenze immediate inquadramenti contrattuali del personale su base regionale, salari e forme di reclutamento di sistemi di valutazione disuguali, livelli ancor più differenziati di welfare studentesco e percorsi educativi diversificati. Ad oggi dicono i sindacati vengono meno così i principi della Costituzione racchiusi nei valori inderogabili e non negoziabili contenuti nella prima parte della carta costituzionale che impegnano lo Stato ad assicurare un pari livello di formazione scolastica ed istruzione per tutti, con particolare attenzione alle aree territoriali con minore risorse disponibili alle persone in condizioni di svantaggio economico e sociale. Forte la preoccupazione, dicono che l'intero percorso venga gestito con modalità che non consentono un'approfondita discussione di merito dal momento che le Camere potrebbero anche essere chiamate non più a discutere e a valutare ma unicamente a pronunciarsi su ciò che le regioni richiedenti e il Governo avranno precedentemente sottoscritto. In vista della tornata elettorale di primavera al Comune di Campobasso, il dirigente scolastico Rossella Gianfagna precisa che nessuna proposta ufficiale di candidatura a primo cittadino l'è stata mai formalizzata. La mia unica speranza, evidenzia la professoressa Gianfagna, resta quella di vedere all'opera classi dirigenti capaci di porre al centro del proprio agire politico, i giovani e le sfide che il mondo del lavoro impone. Agire per compiere qualcosa di buono è già il primo passo per realizzare una società diversa. E alle 17.30 di oggi all'Istituto Scolastico PIL a Campobasso ci sarà la presentazione del quaderno di training logopedico allenamente scritto dalle dottoresse Martina Fatica e Simona Gallucci. Gli interventi illustreranno il percorso di esercizi mentali per i disturbi della memoria. Un finanziamento del Governo nazionale del Ministero dell'Istruzione renderà possibile l'utilizzo dell'auditorium nella città della città di Campobasso. Sottoscritta la convenzione tra l'amministrazione comunale e il Conservatorio musicale Lorenzo Perosi. L'auditorium all'interno della zona residenziale città nella città, situata al centro di Campobasso, può finalmente trovare il giusto utilizzo, anche se la convenzione stipulata tra l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Battista e dai vertici del Conservatorio musicale Lorenzo Perosi è subordinata alla concessione di un finanziamento da parte del Governo Conte e del Ministero dell'Istruzione. Abbiamo avuto veramente il 24 dicembre questo gran regalo l'ha avuto la città e poi il conservatorio dalla parte dell'amministrazione comunale che ha approvato il testo di convenzione che avevamo già concordato con il sindaco. Questa convenzione ci dà la possibilità appunto di accedere a questa richiesta di finanziamento, ci ha dato questa possibilità, abbiamo presentato la richiesta di finanziamento. Mi auguro che non si fermi, già abbiamo chiesto al MIUR la regolarità sulla domanda, ci hanno detto che è tutto regolare, ora presso il MIUR si dovrà insediare questa commissione che dovrà valutare le varie proposte presentate e io mi auguro che la nostra venga accolta così da dare al conservatorio, ma anche io dicevo ai suoi colleghi precedentemente, anche alla città, un auditorium degno di questa città e degno di questo conservatorio. Ci viene offerta veramente una grande possibilità perché noi con l'auditorium oltre all'attività didattica che svolge in genere un auditorium possiamo dare massima espressione all'attività di produzione, perché il conservatorio non è solo insegnamento didattica, ma è anche produzione, cioè anche mostrare all'agenda ciò che si fa, dove i nostri giovani studenti danno luogo all'espressione della loro arte in questi concerti. Oggi noi questi concerti li facciamo nel nostro auditorium piccolissimo che purtroppo non ha un'acustica particolare, con questo auditorium possiamo dare grande risalto anche alla nostra attività produttiva. Pareri positivi stanno arrivando per il Master Universitario di primo livello in Scienze e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica, organizzata a Campobasso e promosso dall'Università del Molise. Il Master riprenderà questo fine settimana, curato dal docente Domenico Angelecchia. Autismo, accoglienza, terapia specialistica, intervento di rete. Un progetto innovativo è stato promosso a Larino dal Centro Sociale Il Melograno per favorire l'inclusione e il miglioramento della qualità della vita delle persone con disturbo autistico. Domattina ci sarà la presentazione della proposta in largo pretorio. Invece oggi alle ore 18 a Venafro, nel quinto appuntamento del nuovo Cinema Divergente, verrà ricordata la genialità artistica del partenopeo Massimo Troisi con la proiezione della sua prima opera da regista Ricomincio da tre. Appuntamento nei locali della palazzina Liberty a cura del collettivo divergente. E adesso come ogni giorno, spazio al meteo. La gamma a batterie San Salvo, zona industriale o visita il sito lagammacommerciale.it Per vederci chiaro, ottica desiato, in via Estonia 41A a San Salvo e via Acqua Santi Anni 5 a Trivento. Bel tempo oggi su tutto il Molise, dalla sera cielo prevalentemente stellato o velato. Le temperature sono comprese tra i 4 gradi di Campobasso e la massima di 14 a Termoli. ventilazione debole sud-occidentale. Poco mosso il medio adriatico. Domani mattina torneranno sulla regione ampi banchi di nebbia. Valori climatici in leggera flessione, venti di direzione variabile. Per la decima giornata del campionato di serie C2, Girone Campano termina in parità 22 a 22. La gara tra gli Ammers, Campobasso e i Casertani dello Spartacus. Primo tempo 15 a 10 in favore della formazione ospite. L'incontro è stato disputato nel vecchio stadio Romagnoli. Passiamo adesso al calcio. Pineto e Campobasso entrambe impegnate nella ricorsa ai play-off. Hanno offerto un ottimo gioco sul rettangolo abruzzese nell'ultimo turno della serie D. Sentiamo i commenti a fine gara negli spogliatoi al termine del pari 2 a 2. Molto bene il Campobasso, almeno nel primo tempo. Secondo me dal 2 a 2 in poi forse meglio il Pineto meno il Campobasso. Dal 2 a 2 in poi c'è stato proprio quando si gioca non più sul fraseggio ma sull'attacco diretto sulle punte c'erano 100 kg di riferenza. Noi facciamo fatica, non abbiamo una squadra strutturata per giocare una palla avanti e andiamo a fare la guerra. Così siamo morti. Il Pineto è una squadra strutturata per giocare una palla avanti e fare la guerra. Un buon Pineto contro un avversario che gioca a calcio. Sì, secondo me è un ottimo Pineto perché contro una squadra che nell'ultime 15 gara ha perso soltanto domenica scorsa a Savignano. Sbagliato l'aggettivo, volevo dire questo. Un potenziale importante e noi abbiamo giocato la partita a viso aperto quindi loro volevano vincere noi anche. Complimenti sia al Pineto che al Campobasso. Bella, un applauso a tutte e due le squadre, al Campobasso in modo particolare perché hanno avuto il coraggio di rinnovare tutto e quindi nettamente più forte rispetto alla squadra che incontrammo quando giocammo a Campobasso. Quanto ha pesato, se ha pesato il rigore fallito da Tomassini nel primo tempo? Pesa, pesa non solo per il risultato ma anche a livello psicologico perché è una squadra che passa in vantaggio e poi per gli avversari è sempre un po' difficile recuperare. Noi non avremmo recuperato se Marianeschi non avesse inventato un gol alla del Piero. Non so chi è che ha fatto un gol fantastico. Il ritorno dell'Agnonese sul proprio terreno di gioco è coinciso con il secondo successo casalingo della stagione calcistica in Serie D. In rete contro il Forlì gli attaccanti Formuso e Sorgente. Loris Formuso, una rete importante, una rete che ha spianato la strada poi al successo della formazione. Forse anche un pizzico di fortuna in più da parte della sua squadra. Con pochi di rimporta si è arrivati ai tre punti che mancavano da tempo al Civitelle. Sì, la partita non era iniziata nei migliori dei modi, però siamo stati bravi a crederci fino in fondo. Oggi era fondamentale vincere perché è una vittoria che vale dei sei punti. Comunque è da 4-5 partite che stiamo facendo belle prestazioni, però non avevamo ancora raccolto quello che dovevamo raccogliere. Con Francavilla l'unica disattenzione l'abbiamo pagata caro e oggi finalmente si è girato del verso giusto. Forse è meglio essere affiancato in area di rigore, in avanti da un altro attaccante. Spesso da solo hai potuto fare non molto, non certo per le tue responsabilità, ma l'area veniva poco riempita. Dipende, da partita a partita. Da Verzano abbiamo vinto con Ribero dietro di me. Oggi il sorgente è entrato benissimo, ci ha fatto vincere, quindi dobbiamo continuare così. Adesso ci aspettano dieci finali e se giochiamo come le ultime partite abbiamo buone possibilità per salvarci. Migliora anche la tua intesa con i compagni di reparto, con il centrocampo anche? Sì, sì, sì. Vabbè, se arriva a dicembre all'inizio non è mai facile, bisogna ambientarsi. Orientarsi. Adesso sta andando bene, poi finalmente siamo tornati a giocare in casa. Lì a Trivento non se ne poteva più, non era un campo adatto a noi. Forlì e lo stesso Avezzano non sono formazioni costruite per salvarsi, ma per cercare una classifica migliore. Questo che significa per l'Agnonese? Sicuramente siamo contenti. Il campionato è difficile, non ci sono squadre materasso, ha dimostrato oggi il Sant'Arcangelo, hanno vinto parecchie squadre dietro. C'è da lottare fino alla fine, fino all'ultimo respiro. Rispetto al girone più meridionale, quello pugliese, che cosa noti nella qualità di questo girone adriatico? È difficile. Io ne ho fatti 5-6 di gironi. Penso che questo, insieme all'H, è il più difficile. Lasciamo il calcio. Con il risultato di 2-3, l'Europea Isernia deve inchinarsi alla Fiamma Torrese, seconda della classe, nella B1 femminile di pallavolo. Le molisane del tecnico Montemurro hanno offerto una buona prova, lottando su ogni palla, ma non è bastato per cogliere la vittoria. Le Isernine, sabato prossimo, sono attese da una nuova ed impegnativa trasferta in quel di Arzano, reduce da quattro vittorie consecutive ed attuale quarta forza del torneo. In testa alla classifica, l'Aprilia, 33 punti, Torrese 28, Cerignola e Arzano 24, Santa Teresa 23 e l'Europea 21 punti. Chiudiamo con le bocce. Rino Di Paolo e Silvio Mancino della bocciofila Avis Campobasso si sono aggiudicati il torneo San Valentino, gara regionale a coppia riservata alle categorie C e D. In finale hanno sconfitto la coppia composta da Luca e Salvatore Di Bello del bocciodromo Molisano, gradino più basso del podio per Franco Iengo e Antonio Danolfo della bocciofila La Rocca Oratino. Domenica 24 si terrà il primo Memorial Michele Di Tulli organizzato dalla società La Rocca di Oratino, che vedrà al Via 48 formazioni per un totale di 144 atleti. E con questa notizia è veramente tutto. Grazie per essere rimasti con noi a questa sera.